Quarto giorno di ritiro per il Monopoli in quel di Cascia. La formazione bianco-verde agli ordini di mister La Terza si sta allenando in vista dell'amichevole del 4 agosto in cui affronterà il Grosseto, ex squadra di Manuel Nocciolini, retrocessa quest'anno dalla Serie C alla Serie D. Il tecnico prova tanti moduli, soprattutto con alcune varianti in attacco. Il suo classico 4-2-3-1 e il 4-3-3, che ha adottato tante volte a Taranto, potrebbe subire un'evoluzione in 4-3-1-2. Molto dipenderà dal mercato. Simone Simeri è una punta duttile che può giocare sia da vertice centrale nell'attacco a tre che da prima o seconda punta nell'attacco a due. Caratteristica che ha anche Ernesto Starita, che ha fatto vedere di trovarsi a suo agio, soprattutto quando è accanto ad un attaccante strutturato tipo Grandolfo. Nel frattempo si sogna ancora il colpo Vasquez, il giocatore è stato schierato solamente nel secondo tempo nella gara di Coppa Italia del Catanzaro contro il Modena e l'interesse dei calabresi verso un'altra punta potrebbe spingere l'argentino a cambiare aria. A complicare la trattativa però la spesa ingente affrontata dal Catanzaro per acquistarlo dalla Virtus Francavilla, oltre 100.000 euro che ovviamente il Monopoli non potrà spendere per assicurarsi la punta.